Ciao a tutti, benvenuti in questa live, come state? Allora oggi siamo tornati nella solita location, siamo, sono tornato nella solita location e come al solito nella prima live della settimana ci sono un bel po' di notizie da raccontare anche perché c'è un po' di arretrato del weekend anche se ieri in realtà ho cercato di fare un video che riassumeva un po' quelle che erano le principali novità e notizie proprio che erano accadute o il giorno stesso o comunque nel weekend, quindi venerdì, sabato, domenica per intenderci e volevo partire in realtà non da questa scremata che ho messo ma da questa, ok, che vi ho incominciato a raccontare stamattina e che riguarda Arbitrum, quindi il layer 2 di Ethereum, uno dei tanti ormai che esistono, nel particolare Arbitrum è un layer 2 di tipo optimistic roll up quindi le fee per dire si pagano in ITER, non ha al momento un token proprietario e sottolineo al momento visto che buona parte di questi layer 2, abbiamo già visto Optimism, abbiamo già visto Starknet, hanno annunciato il loro token alcuni lo hanno già rilasciato come Optimism e tra l'altro Optimism ci ha fatto anche l'air drop che poi ha avuto le sue complicanze con la storia di questo individuo, di questa entità che aveva sottratto 20 milioni di questi token OP per poi averli distribuiti nuovamente, insomma, c'è stata tutta la storia dell'air drop però il senso è Arbitrum rimane ad oggi il più grande layer 2 di Ethereum per Total Value Lock e questo lo possiamo andare a vedere direttamente su DeFi Yama, anzi, magari lo facciamo immediatamente e andiamo nella sezione Chain, se me la carica, perfetto vedete che Arbitrum comunque è nella decima posizione magari scorro un pochino più in basso ok, è nella decima posizione e tra tutti i layer 2 è il primo nel senso che il secondo layer 2 sarebbe Optimism che è 17esimo e più o meno distano Arbitrum a un Total Value Lock di 780 milioni Optimism di 285, quindi anche i numeri sono abbastanza diversi, no? parliamo quasi di 3 volte tanto, più o meno, a livello di valore complessivo vincolato all'interno della DeFi o comunque di tutto l'ecosistema Optimism bar Arbitrum e non avendo ancora un token incominciano a girare delle speculazioni soprattutto adesso che, cosa che è accaduto, vi apro questa immagine è partita oggi, vedete il 21 di giugno quella che hanno definito la Arbitrum Odyssey Cheat Sheet o meglio la Arbitrum Odyssey che è questa sorta di percorso che dura circa 2 mesi nel particolare 8 settimane dove ogni settimana ci sono dei progetti qui possiamo vedere proprio l'elenco di tutti questi progetti in realtà non è neanche un elenco completo questo se proprio vogliamo vederlo comunque ci sono una serie di progetti che vanno utilizzati vanno completate alcune task particolari per fare un esempio pratico questa è la settimana dei bridge lo vediamo all'inizio, no? e quali sono i task da completare? chiaramente sono bridgeare i fondi su Optimism i bridge sono tantissimi e vi faccio vedere quest'altro tweet di Olimpio che tra l'altro vi consiglio di seguire nel caso vi interessi particolarmente la questione e il motivo è che è uno dei principali cioè è una delle pagine principali uno dei canali principali che fa notizia riguardante il mondo layer 2, Ethereum ed Airdrop devo un attimo sistemare lo schermo infatti mi sembrava troppo piccino oh ok cioè mi sembrava troppo grande perfetto adesso quadro quindi tornando a parlare di questo posto volevo farvi vedere i bridge che già da questa settimana è possibile utilizzare e poi andiamo anche a capire che cosa serve tutta questa odyssey perché vi ho parlato anche dell'airdrop che tra l'altro nessuno ha annunciato a livello ufficiale quindi sono dei rumor il fatto che ci sarà un airdrop del token arby i bridge li troviamo tutti qui sono tanti Olimpio li segna tra l'altro anche con un grado di preferenza quelli con la stellina sono tutti quei bridge che non hanno ancora un token quindi il senso è se proprio devi bridgeare su Arbitrum magari prova ad utilizzare quei bridge che non avendo un token perché no in futuro lo vogliano annunciare magari rilasciare in airdrop allora come dire cogli due piccioni con una fava se proprio lo vogliamo dire nel senso bridge con uno di questi così da un lato completi le task per l'arbitrum odyssey e dall'altro magari in un futuro ti tiri dentro per anche un airdrop di questi bridge tra le domande di questo post che poi è una delle domande che mi ero posto anche all'inizio è ma devo per forza bridgeare da Ethereum verso Arbitrum o posso bridgeare da una qualunque chain che questi bridge supportano in realtà la risposta ufficiale dal team di Arbitrum non c'è stando a leggere i commenti penso che sia abbastanza indifferente da dove si bridge quindi non è necessario passare ad Ethereum per esempio si può bridgeare da Polygon dalla BNB chain e comunque da tutte le chain che questi bridge supportano ovvio che se ne avete la possibilità fare un test anche di bridging da Ethereum potrebbe essere una mossa come dire che toglie ogni dubbio perché sicuramente bridgeare da Ethereum è considerato ed è valido ma cosa intendo quando dico valido tutte queste cose qui no? infatti torno un attimo qui no scusate torno qui che cos'è questa odyssey in sostanza spiegata anche in breve è questo percorso di 8 settimane dove ogni settimana ci sono delle task da completare completando queste task si sbloccano degli NFT nel senso che si guadagnano proprio degli NFT ce ne sono 17 in totale quindi si possono andare a raccogliere durante queste 8 settimane circa 17 NFT e se se ne raccolgono circa 12 si ottiene il 17esimo o meglio si ottiene un NFT extra che è l'NFT finale una sorta di non so come l'hanno chiamato c'è scritto da qualche parte però il senso è se ne ricevete almeno 12 alla fine della odyssey ve ne daranno anche uno extra e la cosa interessante è che ci sono speculazioni proprio su questi NFT cioè alcuni dicono magari chi avrà chi sarà riuscito a guadagnare almeno 12 o 13 NFT potrebbe essere legibile in futuro ad un eventuale airdrop del loro token proprietario che non esiste ma ipotizziamo si chiamerà ARBY o Bitroom o Trum non so come lo vorranno chiamare o ARB e sicuramente a mio avviso può valere la pena effettuare questi task soprattutto soprattutto perché non sono task estremamente impegnativi che richiedono tempo e o spese enormi cioè banalmente per farvi vedere di cosa si tratta la prima settimana vedete è la settimana dei bridge ok poi c'è la settimana di dove bisogna usare altri protocolli come i protocolli di lending e borrowing GMAX che è una delle piattaforme più famose probabilmente su Arbitrum poi sempre Abboard Exchange è un'altra piattaforma sui Perpetual quindi abbastanza simile a GMAX NFT Marketplace ok poi vi potete anche fare i conti magari alcuni non li usate per esempio NFT Marketplace magari non vi interessa comprarvi un NFT non vi interessa fare alcuni task pace magari fatevi i conti per ottenerne circa 12 così prendete anche quello extra vi ripeto secondo me vale la pena semplicemente per il fatto che nel caso in cui non annunciassero poi l'airdrop e quindi nel caso in cui tutto ciò fosse stato tra virgolette inutile comunque non è che avete speso soldi si un po' in fee senza dubbio però magari scoprite anche l'ecosistema di Arbitrum anzi il suo intento la questa odyssey ha proprio l'obiettivo di far conoscere i protocolli far utilizzare il network aumentare il numero di indirizzi attivi aumentare il total value lock che molto probabilmente aumenterà soprattutto perché fatto apposta il primo task è quello di brigiare e basta era giusto per darvi uno spunto e poi onestamente non so se faranno davvero un airdrop o meno siamo consumati e cioè dici non ci sono più fondi per brigiare effettivamente se uno non ha fondi non può brigiare i fondi ma ripeto non penso che anche dovesse esserci un airdrop non credo si tratti di un airdrop gigantesco soprattutto perché quelli fatti in questo modo non sono mai davvero davvero enormi però ripeto quello di optimism alla fine riuscendo a fare qualche piccola operazione 2-3 mila dollari se non ricordo con precisione vendendoli subito si andavano ad ottenere ovviamente ripeto perché colgo un commento per chi lavora la vedo difficile è vero prima ho detto che non ci vuole un impegno enorme però bisognerebbe come fissarsi un po' tipo domani sera sicuramente vado lì e mi metto a fare le operazioni altrimenti poi uno magari si allena esce anche perché ripeto siamo anche in estate e giustamente si preoccupa di meno di arbitrum però io dico ragazzi è più importante la serenità mentale quindi piuttosto di stare qui a impazzire per arbitrum facciamo altro nella vita ecco ci fai un tutorial su questo ma potrebbe essere interessante sì ci posso pensare tieni conto che la prima settimana è partita oggi quindi spero di riuscire nel caso a darvelo entro entro questa settimana qui ci penserò senz'altro allora una domanda hai per caso articoli e guide per studiare il mining di bitcoin vorrei approfondirlo per uno studio universitario e dunque dipende a che livello lo debbi approfondire perché io comunque non sono esperto fino in fondo sul mining cioè tipo tutta la parte che riguarda i costi l'elettricità che è necessaria i macchinari specifici che sono necessari non li conosco così bene se invece mitico mods 80 se invece ti interessa capire la parte più teorica quindi come funziona il mining eccetera eccetera ti consiglio questo sito un attimo che lo prendo learnmebitcoin.com te lo linko anche nella chat se funziona perché era da un pezzo che non lo utilizzavo più non ci credo ragazzi vi giuro era un sito meraviglioso non mi carica più penso fosse uno dei contenuti delle pagine forse ben più documentate su bitcoin in generale e anche sul mining ripeto per quanto riguarda l'aspetto teorico mi ha scammato e niente ma provo provo a cercarlo magari senza senza utilizzare direttamente learnmebitcoin ok il sito è questo non carica bene ragazzi mi fa piacere l'hanno l'hanno distrutto non so hanno cambiato il sito veramente un peccato questa cosa qui dunque dovendo quindi trovare un'altra fonte cosa ti potrei consigliare per quanto riguarda il mining sicuramente ci sono delle risorse fatte bene su Binance Academy però dovrei andare a controllare magari possiamo farlo abbastanza velocemente qui e soprattutto non so se scendeva a livello piuttosto profondo perché spesso diciamo che gli articoli della Binance Academy sono più che altro di infatti questo qui è beginner quindi spiegherà abbastanza basic no cioè a livello universitario credo che tu voglia approfondirlo un pochino di più dal cellulare il sito va ok magari ragazzi sono io in realtà che ho dei problemi con il sito di Learn Me Bitcoin ve lo lascio comunque quindi ve lo scrivo qui in chat se a voi va meglio perché ha tutta una parte estremamente bella su come funziona il mining per quanto riguarda la parte pratica non ti so consigliare tanto ma so che esistono dei canali su telegram barra discord che invece contengono un sacco di informazioni anche proprio ok non so è il mio computer è brave che ha deciso di non far partire il sito comunque ti dicevo esistono un sacco di gruppi soprattutto per quanto riguarda Ethereum so che ci sono tanti gruppi perché anche in Italia comunque c'erano parecchi miner anche on mining e ti possono sicuramente aiutare a me va vabbè ragazzi allora è il mio computer che ha deciso di non far aprire questo sito meglio così meglio così perché è un sito veramente fatto bene forse sei qualche nazione strana con VPN no in realtà no però fa niente invece ciao Ale ma non pensi che le maggiori piattaforme dovrebbero nascondere meglio i loro indirizzi wallet per evitare che si sappia se hanno preso prestiti e gli eventuali prezzi per far scattare le liquidazioni dunque sicuramente la tua domanda è interessante sì sarebbe meglio che evitassero questo però probabilmente a volte non è che sono le piattaforme che dicono al mondo intero guardate che questo indirizzo è nostro ma in un qualche modo si ricostruiscono in base forse alla quantità di volume che spostano in base a che tipo di movimentazione fanno onestamente non saprei neanche dirvi come riescono a ottenere le label tipo sapete che c'è Nansen che dà tutta una serie di label però sono label che possono essere fatte sia da persone che consigliano tipo questo indirizzo secondo me è collegato a questa entità sia proprio dal team di Nansen che fa le etichette lo stesso etherscan lo stesso etherscan permette la creazione di label su alcuni indirizzi però anche lì non saprei come fare secondo me con volumi troppo grandi è molto difficile e quindi in un certo senso le grandi whale magari ce ne sono davvero qualcuna che sono singoli individui ma molte di queste grandi whale sono in realtà delle aziende tipo celsius appunto oppure fondi di investimento come trinero capital eccetera eccetera diverso sarebbe il caso di nascondere i dati sui prezzi di liquidazione ma questo in una blockchain pubblica è impossibile quindi bisognerebbe utilizzare delle blockchain che nascondono quei dati però per dirti ethereum non 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 lo rende possibile justin sun è lebellato ovviamente si justin sun e tra l'altro justin sun se ne frega altamente delle sue movimentazioni cioè lui a volte con una transazione smuove 100 milioni di dollari e lo fa tipo in un'unica botta spesso le whale magari vedete che spezzano le loro transazioni in due tranche tre tranche quattro tranche magari da 5 milioni l'ora e ho visto oggi nansen infatti invece Justin sun no fa una transazione e non sbaglia perché lui è his excellency no non mi ricordo a cacca per cosa stava tipo la sua eccellenza qualcosa del genere grazie mille Ivan Dandan per il prime va bene però non voglio rimanere troppo su questo sito che mi dice che non lo posso raggiungere volevo invece parlarvi visto che ta 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 volevo parlarvi di quello che già raccontavo un po' ieri su Solana perché ci sono degli aggiornamenti e nel particolare la whale quella che aveva una posizione gigantesca su Solend e che rischiava la liquidazione ad un prezzo circa di 22 dollari 23 dollari di Sol ha incominciato a muovere i propri fondi nel particolare ha incominciato a ridurre la sua posizione di rischio andando un po' a ripagare a ripagare un po' il debito e anche a togliere collaterale quindi tipicamente ha ridotto il suo cioè in sintesi ha ridotto il suo prezzo di liquidazione la cosa interessante è che siccome non muoveva fondi da 12 giorni e addirittura volevano prendere il possesso dei fondi di questa whale il fatto che abbia deciso di movimentare i fondi fa capire come dire un po' a tutti ma soprattutto al team di Solend che non è completamente dormiente questa whale anzi probabilmente sa quello che fa visto che il prezzo di liquidazione alla fine nemmeno è stato toccato se ci pensate e basta qui mostrano anche uno screenshot dove non so se è abbastanza grande per riuscirlo a vedere per voi ma ci sono due transazioni importanti la prima anzi scusate la seconda che sarebbe poi quella venuta per prima che è il prelievo di 100.000 Sol e la seconda è un repay è una repay transaction quindi ha ripagato un milione di USDC di debito ricordatevi tra l'altro che questa whale oltre a possedere quasi il 95 96 98% di tutti i Sol su Solend aveva anche quasi la totalità degli USDC presi in prestito quindi come dire non era una whale banale per la piattaforma ma è una whale rimane una whale fondamentale nel senso che se dovesse prelevare tutto o comunque se dovesse rimanere inattiva per tanto tempo procura comunque in un qualche modo dei danni alla piattaforma che monnezza di piattaforma ma secondo me sono stati anche in parte sfortunati perché hanno giocato velocemente le loro carte probabilmente hanno sbagliato nel proporre la soluzione di appropriarsi completamente dei fondi e di fare la transazione in più sono stati sfortunati se volete perché non si è mai verificato il prezzo di liquidazione quindi avrebbero avuto tra virgolette una scusa anche se sarebbe stata una bella catastrofe per Solend e in generale per Solana e in più hanno fatto pubblicità alla loro concorrente che adesso non ricordo il nome comunque c'è una piattaforma analoga su Solana che è sempre una piattaforma di lending che ovviamente attrae credibilità visto il fatto che questa piattaforma ha minato un po' alla fiducia dei suoi utenti con la mossa di dire ma sapete che c'è prendiamo i fondi e gestiamoli un po' come voi orca esatto grazie mille bitclub italy ciao le cose ne pensi di questo money market su aurora origami finance allora l'ho già visto però devo andarmelo devo andarmelo a rivedere di recente perché da un po' che non lo guardo quindi nel senso non ricordo adesso come stanno gli APY e non ricordo neanche se ho ditato però me lo vado a vedere perché l'avevo già visto anche in passato forse me l'avate anche già detto e quindi me le ho andato a vedere me le ho anche andato a vedere orca o larix allora io se non sbaglio avevo visto ho visto orca però larix non la conosco ma se è una piattaforma di landing cioè tutte le piattaforme di landing diciamo che a parte quella di solend sono state un po' anche tulip finance si 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 tutte quelle sono state favorite diciamo da questa mossa di solend anche se non ho visto ancora il total value lock non lo so ok ringrazio yfarmer che ha direttamente risposto su origami finance quindi gli incentivi sono loccati per un anno ok allora in questo caso è parecchio tempo un anno eh non so se vale la pena andare a rischiare diciamo andare a rischiare per ricevere le reward fra un anno invece il protocollo stable swap ferro l'ho visto si e anzi apriamolo lo apro qui ferro protocol in realtà non è che sia un protocollo estremamente innovativo chissà che è proprio uno stable swap come stavi dicendo tu andiamo nella sezione di pool perché mi interessava farvi vedere che comunque ancora ad oggi considerando che è uscito da un po' di tempo ormai se me lo carica ha una pr che è piuttosto elevato cioè il 57% ovviamente tenderà no ho sbagliato tenderà con il tempo a scendere questo è abbastanza sicuro perché comunque era partito a tre cifre e piano piano continua a scendere e il token in realtà sapete che non lo so come sta come sta progredendo andiamo a vederlo insieme tra l'altro ero tentato anche di farci fair ok 13 centesimi però non mi ricordo quanto costava ah ok direi che ha performato abbastanza bene è uno dei pochi token che sta salendo è uno dei pochi token ecco allora starei anche attento nel senso partenza da un cent ed è arrivato a 13 centesimi ok eh devo dire la verità nel senso anche a me fa un po' paura concordo con YFarmer più che altro perché sta salendo ma per quale motivo sale così tanto bisognerebbe fare un'analisi un pochino delle revenue della piattaforma perché sicuramente la piattaforma genera delle revenue e molto probabilmente queste revenue in parte vanno anche ai token holder dovrei andare un pochino ad indagare meglio la piattaforma e anzi sicuramente domani andrò a farlo senza dubbio così ne possiamo riparlare con più dati però mi sembra un grafico un po' controtendenza rispetto a tutti quindi ci starei anche attento considerando il fatto che l'APR paga esclusivamente o quasi totalmente nel token capite bene che cioè se il token va a calare di brutto anche le reward calano di brutto quindi poi si è più disincentivati a tenere il token tra l'altro esatto c'era anche il fatto che c'era anche il fatto che penso che le reward siano loccate per un certo periodo quindi non è comunque un 57% pulito se così vogliamo chiamarlo mettilo contro bitcoin ve lo posso fare vedere sapete che su dex screener non so se si può fare perché dubito fortemente oppure non lo so fare io magari si può fare no vabbè qui è uguale in west dc vabbè ma che i give up vabbè ragazzi devo vinco no come si fa devo segnalarlo va bene così fatto bella ragazzi invece volevo farvi vedere volevo farvi vedere a parte parlare di ferro che lo andrò ad approfondire magari ne riparliamo anche domani visto che è interessante il protocollo in sé comunque è un protocollo funzionante cioè vi ricordo a parte il token quindi se uno non si è esposto al token e non ha queste preoccupazioni permette il classico swap tra stable coin in questo momento dai usdc usdt e ha alle spalle se così vogliamo chiamarla la chronos labs quindi comunque è uno di quei protocolli che a mio avviso è qui per rimanere perché ha i soldi per pagare gli sviluppatori per continuare a sviluppare in sostanza perché questo è il problema di questo periodo tutti quei progetti che non hanno i soldi fanno fatica ad andare avanti invece loro secondo me le hanno cioè i soldi li hanno perché hanno le spalle coperte un'altra news che volevo farvi vedere era parlando di ethereum quindi qualcosa di interessante era questa cioè che hanno avviato adesso appena mi carica il tweet ok hanno avviato la beacon chain su sepolia questo se vi ricordate è uno step verso il merge perché sepolia è una delle testnet di ethereum ed è la prossima nel particolare è la prossima nel particolare che farà il test effettivo di merge e quindi questo è il primo step per il merge di sepolia nel particolare hanno fatto partire la beacon chain e il merge consisterà appunto nella unione nella fusione tra la beacon chain e la mainnet che funziona in questo momento tac si uniranno e faranno il merge cose che hanno già fatto su robstan dopo sepolia la faranno anche su goerly e dopo goerly mainnet di ethereum vera e propria quindi siamo sempre a un altro step ok invece hai visto che cardano ha rimandato l'aggiornamento ho visto ho visto che hanno rimandato l'aggiornamento anche se vi dico la verità non ricordo che cos'è che portava questo aggiornamento che era un hard fork tra l'altro e quindi devo andarmelo un attimo a ripassare a studiarlo però ho visto che l'hanno rimandato per qualche problema tecnico che hanno avuto quindi sì e invece sempre relativo ad ethereum non so se avete visto questo dissing che c'è stato tra vitalik e lo stock to flow di plan b qui adesso non è che voglio concentrarmi su questi dissing perché comunque sono robe abbastanza poco utili anche a nostri fini però come dire vitalik ha scritto che utilizzare e promuovere parecchio modelli finanziari del genere lo stock to flow che tendono a far impressionare tendono a far rimanere nella testa il concetto che il prezzo va sempre su e ok ci sta comunque non è una cosa che non è una cosa buona definiamola così poi c'è stata la risposta di plan b insomma cose che non ci interessano e probabilmente come dici tu giona 23 serve per intrattenere il pubblico durante il bear market perché sono le cose interessanti che poi fanno baldoria che poi fanno creano notizie creano rumor e creano anche effettivamente intrattenimento se volete anche il modello televisivo però ripeto per noi è poco interessante a me fa ridere ma oltre a questo non nulla di che anche io in realtà non è che condivida pieno il modello stock to flow però ripeto sicuramente non ci mettiamo qui a fare dissing a plan b eccetera eccetera o anche se devo dirvi la verità non credo che quello di vitali possa essere definita effettivamente uno un dissing perché è stato anche abbastanza onesto gentile semplicemente ha espresso il suo parere tutto qui ciao le ho portato il quadro rw al caf da allegare la dichiarazione ma mi ha chiesto delle certificazioni e purtroppo cioè detta in questa maniera generale non ti saprei dire che altre certificazioni hai necessità di portare tieni conto poi che la cosa migliore è sempre rivolgersi ad un professionista che quantomeno ha già trattato l'argomento almeno una volta cioè che non è tipo la prima volta che fa consulenze su teme di criptotassazioni anche perché appunto in teoria non è che servano certificazioni ulteriori e poi la parola certificati cioè vuol dire tutto vuol dire niente quindi non ti saprei aiutare così a parole ciao in attesa di acquistare un ledger exodus in attesa di acquistare un ledger exodus può essere una buona soluzione o mi sai consigliare altro io uso quello anche per l'integrazione lighting network allora non ho mai utilizzato exodus e quindi sicuramente ti posso dire che è uno dei più famosi e molto probabilmente quindi si può andare bene se ti serve un wallet unicamente bitcoin puoi utilizzare anche qui dipende lo vuoi lo vuoi sul computer lo vuoi per telefono ad esempio per telefono è comodissimo blue wallet o moon wallet che hanno anche l'integrazione lighting network per computer fisso puoi avere un sacco di wallet quello più famoso per bitcoin è electrum però electrum è solo bitcoin quindi se poi tu vuoi anche detenere altre criptovalute eth bnb eccetera eccetera non ti va bene non ti basta electrum invece su exodus se non sbaglio si c'è un wallet un pochino più non dico commerciale però un wallet molto più generalista quindi se è semplicemente temporaneo penso che vada benissimo dunque 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 chiede ad un commercialista che quelli del CAF non sanno un cippino non sanno un cippo si la cosa migliore è sempre chiedere ad un professionista come dicevo prima che ha già trattato l'argomento invece e qui passiamo un pochino nella parte più come dire anzi vi voglio prima dire questa notizia qua che era abbastanza già nota ma ha sicuramente contribuito ad alimentare le vendite e quindi anche i prezzi nei giorni scorsi c'è stato questo etf in canada che ha venduto circa 24.000 bitcoin qui lui dice ieri però il tweet è a sua volta di no si si è proprio ieri il 20 di giugno ok l'ho preso stamattina perfetto quindi 24.000 bitcoin un giorno sicuramente non è tantissimo andando a considerare il volume giornaliero di bitcoin e parliamo di parecchi miliardi questo lo possiamo vedere su CoinGecko il volume di 24 ore è di 27 miliardi quindi comunque 27.000 bitcoin non sono enormi però non sono neanche pochi e tra l'altro rappresentavano circa il 50% dei bitcoin complessivi che questo fondo questo etf deteneva perché lo ha fatto molto probabilmente perché ci sono state delle redemption quindi gli utenti hanno deciso di vendere l'etf e quindi poi il fondo ha dovuto immagino il fondo abbia dovuto quindi liquidare le posizioni di conseguenza vendere anche i bitcoin alla fine un etf è semplicemente un indice a replica a replica di un altro di un altro scusate un etf è un fondo che replica un indice in questo caso il prezzo di bitcoin direi che dici che è stato liquidato non sembra nel senso che in realtà credo che fosse un etf spot quindi non dovrebbe avere utilizzato strategie di leva o chissà che cosa nel caso nel caso sarebbero stati folli eh perché se tu utilizzi strategie di leva con un etf spot cioè perché lo stai facendo no sense scusa una domanda ma come faccio a sapere che rete usare per trasferire le cripto la domanda te la rigiro nel senso che non esiste la rete corretta da utilizzare per trasferire le cripto ma esiste la rete corretta che ti serve per quella determinata operazione quindi se banalmente tu vuoi andare a utilizzare la bnb chain devi trasferirle usando la bnb chain se invece vuoi usare ethereum allora dovrai utilizzare la rete ethereum e così via quindi la rete giusta non esiste se magari posso ipotizzare che il tuo interesse sia quello di trasferirle tra un exchange e l'altro devi vedere che reti gli exchange supportano e trovare le reti che combaciano e utilizzare la stessa rete ragazzi mi togliete uno sfizio io ho iniziato ad investire a febbraio di questo anno dovrò dichiarare nel quadro rw del prossimo anno giusto corretto perché l'anno 2022 lo andrei a dichiarare nel 2023 quindi è giusto è giusto è giusto è sempre l'anno successivo diciamo ciao ma su binance non è possibile detenere dollari fiat ci sono tutte le valute ma usd solo stable coin ottima domanda in realtà non lo so avrei detto che era possibile onestamente detenere anche dollari fiat perché non vedo per quale motivo alla fine com'è possibile depositare euro direi che è possibile anche depositare usd poi dovrei andare a ricontrollare però ti direi che si è possibile farlo secondo me soprattutto se esistono dei trade delle coppie di liquidità diciamo delle coppie di trading con usd tipo se io scrivo bitcoin usd usdt o non so btc forse facciamo usd btc esiste no trading pair no vabbè ok non sto utilizzando le keyword giuste però secondo me si ripeto è possibile farlo oh grazie mille vitone grazie mille vitone 81 per il prime si possono detenere dollari su binance perfetto mi dai anche la conferma ottimo adesso mi sa che non è possibile dovete mettervi un po' d'accordo vi dico la verità in questo momento non vi sto dare una conferma perché non ho non ho testato ultimamente direi così a naso che è possibile farlo perché come è possibile depositare euro direi che è possibile depositare dollari però non ci metto la mano sul fuoco ecco fai una prova nel senso alla fine non credo sia troppo difficile non esiste proprio usd ok ok si vede che si vede che non è possibile però se proprio hai la necessità di farlo ci sono altri exchange su quale si può tipo vabbè ftx è possibile farlo ma anche altri e invece ok adesso lo vado a trattare quindi mi interessava tenerlo per adesso avete visto che è arrivato la notizia del io lo definisco bailout ma non è un bailout di blockfi da parte di alameda che in sostanza ha siglato una partnership con blockfi oppure il contrario quindi blockfi ha siglato una partnership un accordo con alameda cioè scusate non con alameda con ftx proprio e in questa in questa non so come definirla in questa partnership ftx ha dato un credito a blockfi di circa 250 milioni di dollari che in questo tweet lui è il CEO di blockfi andranno ad utilizzare per rafforzare il bilancio e rafforzare in generale la società e la piattaforma tra l'altro la notizia arriva in un periodo dove anche blockfi soprattutto su twitter navigava in acque non proprio limpidissime non proprio non proprio facili anche per la società stessa perché veniva messa in discussione la solidità della piattaforma la solvibilità della piattaforma e quindi questo sicuramente fa tirare un respiro di sollievo per tutti coloro che hanno degli asset su ftx infatti subito dopo a questo è arrivata anche e me lo sono salvato è arrivata anche la conferma con un tweet di sbf che è poi il CEO di ftx e che cosa dice la stessa cosa quindi ok che inietteranno 250 milioni di dollari nei confronti di blockfi e poi rassicura su blockfi stessa quindi blockfi maneggia utilizza un risk management corretto non ha come dire non ha debito nei confronti di società come trierro capital come celsius eccetera eccetera e soprattutto da qualche parte dove è che lo dice qui punto 4 blockfi è finanziariamente forte tutte le operazioni sono normali e continueranno ad essere tutti gli asset sono al sicuro quindi direi che sono parole abbastanza importanti nel senso che sicuramente danno fiducia e più che altro molti l'hanno visto come un bailout per questo che l'ho definito un bailout cioè blockfi stava incominciando a navigare in cattive acque erano anche usciti i dati sul bilancio di di blockfi stessa che non era dei più rosei e di conseguenza questa notizia le manda un pochino più a tacere insomma sam sta salvando il mondo cripto si poi anche qui nel senso secondo me bisogna sempre stare attenti a idealizzare troppo alcune persone sicuramente è un mi fa piacere per tutti coloro che magari incominciavano a preoccuparsi dei loro asset tenete conto che su blockfi non hanno comunque mai bloccato i prelievi cioè non è che ieri non era possibile prelevare su blockfi ripeto è semplicemente c'erano indiscrezioni c'erano rumor e il fatto è che poi tutti questi rumor generano anche cioè si autoalimentano perché magari partono inizialmente come dei rumor magari anche poco confermati poi crescono 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 a livello che sui social arrivano talmente a investire tutte le persone che le persone incominciano ad avere paura allora vogliono andare a prelevare e poi oggettivamente magari la società si trova anche in difficoltà seria e allora lì poi scatta il vero blocco e panico ok tale volte ciao Ale ma è possibile abbonarsi al tuo canale con amazon prime? si è possibile è possibile farlo dovrebbe esserci in basso adesso le parole esatte non le ricordo tipo subscribe with prime qualcosa del genere speriamo che tra i 250 milioni non ci siano i fondi degli utenti loro dicono di no quindi se ci affidiamo a quelli che sono i dati ufficiali no non dovrebbero essere fondi degli utenti ma fondi per rafforzare il bilancio e la società che poi sono parole un po' come dire no che non dicono nulla ai fini di ai fini nostri per comprendere meglio la situazione dunque 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 ah la situazione sintetix è una situazione che sto approfondendo quindi non ti rispondo subito yfarmer semplicemente perché non ti so ancora rispondere ma la sto approfondendo quindi magari ne parliamo domani o dopo domani di quella cioè la situazione alla domanda che cos'è l'atomic dab di sintetix e come fanno ad avvenire gli suopi dello slippage se tutto è espresso in sintetix dunque 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 supercazza ah ok ringrazio Shadow9Eyes e invece Bancor che cambia policy così dall'oggi al domani e avete visto che ne ho parlato un po' nel video di ieri anche lì purtroppo capisco la loro situazione perché erano in una sorta di death spiral anche loro nel senso che con il token che scendeva di prezzo con grande totocrypto grazie per il prime con il token che scendeva di prezzo con le persone che rimuovevano la liquidità e quindi venivano ricompensati dall'impermanent loss protection l'impermanent loss protection che poi veniva subito dampato e quindi faceva scendere ancora di più il prezzo che faceva aumentare l'impermanent loss per tutti gli altri e così via in loop negativo quindi capite bene che la situazione per Bancor era piuttosto seria poi si sono messi a rimuovere liquidità enti grossi si parla di Celsius ma anche qui nessuna conferma ufficiale sebbene analizzando on chain e questo ve l'ho fatto un po' vedere ieri ci sono dei collegamenti effettivamente a Celsius cioè questi indirizzi in un modo o nell'altro poi si ricollegano a quelli che su Etherscan sono etichettati come Celsius address quindi si in questo momento chi rimuove si becca tutto l'impermanent loss e non viene ricompensato allora considera che si beccava sempre l'impermanent loss cioè anche chi rimuoveva prima si beccava l'impermanent loss però prima beccavi anche l'impermanent loss protection adesso no e probabilmente è stato messo a discussione proprio il modello nel senso che proteggere l'impermanent loss funziona in un mercato completamente rialzista e instaura una bella spirale della morte in un mercato dove invece le cripto faticano tant'è che poi ieri nel video ho detto attenzione anche a Torchain le differenze ci sono anzi una persona nei commenti mi ha giustamente scritto che comunque le differenze non sono poche e l'ho anche ringraziato del feedback soprattutto perché non ho approfondito in maniera enorme le differenze però ripeto anche lì c'è una una gestione dell'impermanent loss protection un pochino diversa però c'è quindi è da ragionare proprio sul modello funziona non funziona vedremo riguardo Bancor c'è un altro thread molto interessante riguardo il fatto se loro equivalent token sono effettivamente backupati anche se non ho approfondito l'ecosistema quindi non saprei quanto e cosa sia vero me lo son perso questo thread non ti saprei dire tutti questi protocolli penso che moriranno il problema di Bancor è che vedi adesso che ha deciso di togliere l'impermanent loss protection ha perso la fiducia quindi ha fatto una operazione che sicuramente il token ne giova nel breve periodo ma nel lungo periodo la gente dovrà dire mi fido di Bancor e quindi ci deposito sopra la mia liquidità se loro in passato in momenti critici hanno stravolto tra virgolette stravolto le regole del protocollo punto di domanda anche qui bisogna dare una risposta invece questo foto questo foto always using permanent loss protection questo è bellino oggettivamente questo è veramente bellino e niente ragazzi hanno l'errore capita sapete che la copertura non è mai al 100% quindi ci sta bene bene a riguardo della rete per trasferire le cripto quindi tecnicamente potrei trasferire bitcoin da exchange a ledger usando rc20 sì lo puoi fare però ricordati che non stai trasferendo veri bitcoin ma stai trasferendo molto probabilmente dei bitcoin wrappati su ethereum che è quindi diverso dal trasferire degli bitcoin reali i bitcoin reali sono solo bitcoin sulla rete bitcoin quindi questo è importante perché la differenza non è proprio banale e invece volevo poi chiudere ma ok in realtà le notizie le abbiamo viste praticamente tutte volevo chiudere giusto con un aggiornamento della situazione liquidazione in particolare per due indirizzi che ovviamente non trovo forse era questo uno sì un indirizzo era questo qui lo 0x7499 che era uno di quegli indirizzi che ripeto nessuna conferma ma si ipotizzava potesse essere di celsius e che era già stato anche liquidato in parte per una sua posizione suave in questo momento l'ha ripagata completamente no però allora non era questo scusate mi riprendo il mio tweet perché l'ho scritto nel mio tweet ok così faccio prima vederlo dunque 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 innanzitutto l'aggiornamento sul token sul wallet 0x4093 poi proseguiva non mi ricordo come che era quell'indirizzo che aveva quella posizione enorme su ave questa qui e che in realtà nei giorni scorsi è andata a ridurre infatti non so se ve lo ricordate ma settimana scorsa il deposito era circa 200.000 iter più o meno adesso è 152.000 iter e il debito è diminuito molto in particolare ha ripagato buona parte del suo debito in usdc e questo è stato fatto tramite una serie di operazioni in loop che sono il ripagamento di usdc la rimozione di collaterale la trasformazione del collaterale in iter in usdc e nuovamente il ripagamento di usdc quindi il ripagamento del debito questa operazione l'ha fatta tipo 8-9 volte 10 volte di fila e ha abbassato il suo livello di rischio portando più o meno il suo livello di liquidazione a 900 dollari quindi se iter dovesse toccare i 900 dollari più o meno rischia la liquidazione e analoga cioè meccanismo analogo anche per l'altro wallet che era questo qui 716 034 eccetera eccetera che era invece il secondo wallet anche questo probabilmente collegato a Celsius o Trierro Capital adesso non ricordo quale dei due che era già stato liquidato in parte ma poi rischiava ancora una liquidazione e anche lui ha ridotto notevolmente il suo rischio andando a ripagare il debito a togliere collaterale e vendere il collaterale per ripagare ancora il debito e health rate 1.41 più o meno prezzo di liquidazione sugli 840 dollari quindi l'hanno abbassato molto perché settimana scorsa il prezzo di liquidazione era più o meno sui 1000 e sono stati fortunati se ci pensiamo perché l'hanno abbassato proprio poco prima che il prezzo in realtà scendesse anche oltre i 900 cioè alla fine è anche sceso poco sotto gli 800 per poi tornare su quindi sono stati anche fortunati o più che fortunati l'hanno mosso in tempo sempre attenzione quindi comunque a questi livelli di liquidazione 900 dollari 840 gli indirizzi tanto ce li avete ve li avevo messi anche in un tweet se vi interessa seguirli più da vicino magari soprattutto se vi interessa avere anche delle notifiche su questo perché perché è ovvio che se dovessero venire liquidati comunque ITER ne potrebbe risentire almeno inizialmente soprattutto on chain poi dipende dalla quantità di ITER che viene liquidata on chain se viene fatto subito arbitraggio anche sugli exchange o meno comunque sicuramente non fa bene all'ecosistema in generale liquidazioni così importanti non fanno mai bene perché portano a vendite vendite che poi magari fanno scattare altre liquidazioni e così via invece vedevo che parlavate di USDD dunque ah ecco un'altra cosa interessante che verrà la pena menzionare è finalmente stanno facendo USDD buyback a botte di 10 milioni hai ragione anzi me l'ero anche segnato forse nei miei tweet salvati l'ultimo quello di oggi l'hanno fatto anche ieri 10 milioni comprati e come vi dicevo forse su telegram non ricordo con precisione questo è l'unico modo che si ha in questo momento per effettivamente far riportare USDD a peg perché perché non esistendo un meccanismo di redemption pubblico cioè al quale tutti possono avere accesso e con meccanismo di redemption intendo un meccanismo dove uno immette un USDD e riceve ad esempio un USDC o 0,5 USDC e 0,5 SDT questo non è possibile lo può fare solo la tronda o reserve per ora di conseguenza per il mantenimento del peg si sono affidati al trading on chain barra sugli exchange che però in un momento così dove la fiducia nelle stable algoritmi che è quasi a zero ovviamente tende a farla depeggare io penso che sia anche fatto apposta questa cosa che non abbiano non siano intervenuti subito Justin Sun non mi sembra preoccupato però come abbiamo più ripetuto risk reward molto sfavorevole secondo me su questa stable coin tutto qui vi ricordo tra l'altro che è possibile consultare sempre il sito della tronda o reserve che è questo qui il primo tdr.org dove è possibile vedere quasi in tempo reale credo la loro la loro treasury e come vi dicevo soltanto considerando le stable coin come si diceva USDT coprono totalmente la supply quindi ripeto shortare USDT o shortare TRX secondo me è molto rischioso però probabilmente la cosa migliore da fare è direttamente non utilizzarla anche perché io non ho ancora capito cioè quello che mi sfugge è il senso ultimo di questa stable coin a che cosa servirà quindi bisogna domandarsi questo e secondo me va data una precisa risposta a questa domanda qui prima di effettivamente usarla USDT è un altro scam dove non si capisce come dove riprendere il peg vanno a caso TRX è inutile beh un fan praticamente sì sicuramente c'è quello che voglio dire io non è nulla contro Justin Sun nulla contro la tronda o reserve semplicemente non capisco perché doverla usare vi dico anche un'altra cosa se non fosse accaduto ciò che è accaduto a UST USDD in questo momento molto probabilmente sarebbe a peg in primis e in secondo luogo sarebbe molto più utilizzata perché in realtà se andiamo un pochino sopra comunque offre dei rendimenti che sono nettamente più alti della media e magari non sono tutti pagati in USDD questo dovrebbe approfondire onestamente non ve lo so dire però ripeto se non ci fosse stata la storia UST luna io penso che avrebbe avuto maggiore successo questo stablecoin però ripeto timing sfortunato sì concordo oppure in realtà timing apposta cioè chi lo sa qui chi lo sa non lo so onestamente onestamente non lo so dunque furu combo è una piattaforma che ti permette di fare transazioni in un singolo blocco quindi anche flash loan con interfaccia grafica sia su ether che su polygon ed è comodo se si vuole andare velocemente a leva o loop su ave a ripagare il debito che poi sarebbe replicare la funzione di ave ripaga con collaterale magari puoi farci un video carino guarda me lo segno furu combo perché è interessante e non la conoscevo quindi why not furu combo anche un bel nome ma danno anche il 42% su tether penso di sì perché credo sia nella due pool di cioè se ci premo mi porta su sun.io e credo ci sia una due pool usdd usdt quindi in realtà ci si espone a entrambe le stablecoin sì su shell c'è tipo è partito un tweet shell short squeeze nello stile di gamestop quindi anche lì veramente rischi folli di gen completi non non starei mai a giocarci personalmente bello ragazzi io noi ci siamo per oggi ci vediamo comunque domani e ringrazio tutti come al solito per essere stati qui con me detto ciò per chi ci sarà anche a milano ci vedremo anche lì nel fine settimana nel particolare venerdì sabato domenica e tra l'altro domenica pomeriggio c'è anche il mio speech parleremo un pochino in maniera più approfondita di mev ne ho già discusa su youtube ma lo farò in maniera appunto estendendo il discorso che avevo già incominciato sul tubo bello ragazzi grazie a tutti buona serata a tutti e buon proseguimento noi ci vediamo domani ciao ragazzi